Siamo tornati su Piale della Repubblica, dove 15 giorni fa abbiamo mostrato la condizione di indecenza in cui versava la trada per verificare che cosa fosse cambiato dopo la segnalazione. A prima vista sembra che un intervento di pulizia ci sia stato, ma a quanto pare non è stato completo, perché troviamo dei mucchietti di rifiuti. Qui abbiamo dei pneumatici, un altro mucchietto è qui, a dimostrazione che il prelievo dei rifiuti non è stato totale. Quanto alle condizioni dell'arteria, nella quale ci troviamo dopo un paio di giorni di pioggia, troviamo delle pozze d'acqua. E' un'altra, ancora più abbondante, è quasi un laghetto. A dimostrazione che in questa zona davvero c'è una carenza dell'impianto fognario. Una carenza che ha costretto l'amministrazione a chiudere l'arteria per provvedere a sistemare il problema, ma il problema a quanto pare resta e l'arteria resta chiusa, privando i residenti delle palazzine, che sono alcune migliaia, di una importante arteria alternativa.